San Marco Maragani è una delle zone più importanti per il turismo di Sciacca. Nel corso del tempo qui sono nati posti letto a Iose e diverse attività commerciali. Un'area che però da sempre sconta gravi problemi più o meno contingenti. Alcuni imprenditori, Ezio Bono, titolare di un paio di strutture ricettive, e Vincenzo Fazio, proprietario di uno stabilimento balneare, stamattina hanno denunciato la disattenzione delle amministrazioni per questa contrada. Le risposte non sono arrivate né della vecchia e neanche della nuova amministrazione purtroppo. Noi già da anni che chiediamo il bus, servizio pubblico che arrivi incontrato a Maragani, perché attualmente si ferma, è la prima discesa di Capo San Marco. Sono due chilometri e mezzo. La vecchia amministrazione mi ha risposto personalmente che non c'erano i soldi per il gasolio. La seconda ci aveva detto che non c'erano problemi, ma adesso non è in programma nulla. Se noi andiamo vicino alla nostra città Menvi, c'è l'autobus che arriva in spiaggia. Perché da noi non deve arrivare? Non capisco, ma nessuna amministrazione ha mai preso di petto questo problema. Lei come fa con i suoi ospiti? Li accompagnate voi in spiaggia? No, loro vengono già con le proprie macchine. Noi abbiamo il problema del ponte Cansalamone, perché quando il GPS non è aggiornato rimangono bloccati, quindi li dobbiamo andare a prendere. Il viadotto Cansalamone credo che ha fatto chiudere un bel po' di attività qui a San Marco. Ci penalizza, ci penalizza perché da sciacca arrivare a San Marco diventa una spesa. Anche chi vive qua, anche chi vive tutto l'anno, diventa una spesa aggiunta. Lei è titolare di uno stabilimento balneare molto rinomato, quali sono i problemi che lei ha? I problemi che noi abbiamo sono sempre soliti, avviabilità, scerbatura, disinfestazione. E poi vorremmo un mezzo pubblico che arriva nelle spiagge, come in tutto il mondo. Nel momento in cui ci fosse qui un pullman, un trasporto pubblico, allora loro scenderebbero al mare col pullman. E questa è la città turistica. Avevamo chiesto la scerbatura. A San Marco ci sono diversi residenti, anche in contato a Maracani, ma ci sono anche dei locali commerciali, delle strutture ricettive. Attualmente la scerbatura si fa solamente nel periodo di fine maggio, primi di giugno. Siccome i turisti iniziano ad arrivare i primi di aprile, quindi questo è attualmente il biglietto di visita che noi presentiamo alla città. L'anno scorso l'abbiamo chiesto alla vecchia amministrazione e non ce l'ha dato retta. L'abbiamo chiesta alla nuova, ma a quanto fare già non è in programma, già si va alle primi di giugno. Io dico perché queste zone li stanno abbandonando, per quali motivo? Non ha senso. Loro lo possono vedere tramite la tassa di soggiorno, che queste strutture ricettive funzionano. E l'aumento di fortuna e l'aumento delle strutture ricettive è un buon segnale. Significa che sono le località San Marco e Maracani che funzionano. Ricordiamo che l'imposta di soggiorno serverebbe per i servizi al turismo. Per migliorare invece viene solamente utilizzata per il carnevale, questo è un altro problema. Poi chiediamo, questa è un'altra presa in giro, l'illuminazione a Maracani. Maracani è al buio, ci sono tanti residenti. Mi era stato detto che c'era un progetto, ma mancava il finanziamento. Vecchia e nuova amministrazione. Noi ci chiediamo, ma il progetto secondo me poi non sarà più a norma e non c'è la volontà di cercarlo questo finanziamento. Il problema è questo, non c'è la volontà. Una contrada alla San Marco Maracani, dove eppure alcuni residenti negli anni scorsi hanno dato vita ad un comitato di quartiere, ma gli imprenditori da noi intervistati oggi hanno chiesto al predetto comitato una superiore attenzione anche nei confronti delle attività economiche. Io vivo a Maracani, lui vivo a San Marco. Comitato Maracani-San Marco, che noi non ci siamo mai contattati, credo che non esista. Oggi questa intervista la facciamo per mettervi in contatto, possiamo mettere così? Possiamo pure metterci così. Noi non vogliamo nessuna polemica con il comitato esistente, ci mancherebbe, anzi vogliamo una forma di collaborazione. Noi abbiamo saputo l'esistenza di questo comitato lunedì o martedì. Ed è assurdo, perché noi viviamo e lavoriamo a San Marco. È un comitato composto da poche persone. Secondo me è un comitato condominiale. Un po' poco quattro famiglie che potrebbero dire le problematiche di Capo San Marco. La lettera che ha scritto il Presidente parla solamente della contrata Capo San Marco. Non parla di Maracani, quindi lui non rappresenta i residenti di Maracani. E questo è assurdo.